Ben ritrovati in una nuova puntata di Profili Criminali. Sergio, in queste puntate abbiamo affrontato diverse problematiche, diverse questioni, diversi fenomeni, tutti hanno comunque anche un fil rouge, un filo conduttore che è quello della violenza purtroppo, violenza che nasce in contesti particolari come quello della famiglia. La famiglia che dovrebbe essere quel luogo sicuro, il nido dove appunto affetti e sicuramente non crudeltà dovrebbero esistere. Eppure c'è un fenomeno di cui si parla poco forse e in Italia ce ne sono stati tantissimi casi che è quello dei family murder. Che cosa si intende per family murder? Family murder si intende tutti quei delitti che vengono commessi all'interno di una famiglia e già dire questo significa andare a sconvolgere, a stravolgere la nostra percezione di stabilità, di sicurezza. Perché basta fare un po' un sondaggio metaforico e chiedere a qualunque persona che incontriamo per strada quali sia il posto più sicuro in cui loro si intravedono, il 90% di noi e di loro risponderà alla famiglia. Quindi già questo crea un paradosso in cui purtroppo non solo le violenze domestiche, come dice l'OMS, hanno dei tassi altissimi, ma ci sono anche i delitti. I delitti compiuti tra parenti, i delitti compiuti tra figli che uccidono i genitori o genitori che uccidono i figli, oppure delle vere e proprie stragi familiari dei family mass murder in cui un componente della famiglia arriva ad uccidere tutta l'intera famiglia, come il caso che purtroppo abbiamo assistito nel nostro territorio a Rente, nella zona di Arcavacata, che ancora oggi, nonostante sono passati dei mesi, davvero ha sconvolto tutti. Quali sono i meccanismi che muovono questo fenomeno e soprattutto i famosi, quelli che noi sottolineiamo sempre, campanelli d'allarme? In questo, come in altri contesti, io vorrei tranquillizzare anche i telespettatori, perché anche qui non ci sono delle situazioni che nascono per caso, nessuno si sveglia la mattina e stermina l'intera famiglia, o uccide la mamma o una mamma che uccide il figlio, abbiamo avuto tantissimi casi anche a Cosenza e in tutta Italia, non solo in Calabria. Succede che i conflitti, il disturbo, la psicopatologia, il non essere compresi, il creare climi ostili, tutte queste ipotesi messe insieme arriva a creare degli scontri. E gli scontri, questa rabbia, questa frustrazione, questa aggressività non canalizzata, arriva a trovare un bersaglio. E il bersaglio è l'obiettivo da distruggere, a volte per l'autonomia, a volte per avere la libertà desiderata, a volte perché all'interno della famiglia non ci veniamo capiti, sempre in un'ottica modificata da disturbi e anche da psicopatologie, in alcuni casi diventa un mix letale in cui il papà, la mamma, i genitori, un fratello, una sorella diventano un ostacolo da abbattere. Com'è possibile che in un contesto familiare, giornaliero, quotidiano, una persona, che può essere tua moglie, tuo marito o un genitore, non si accorga di questo malessere e non si accorga soprattutto che questo malessere potrebbe sfociare in violenza? In fondo siamo nel 2018, anche se i casi più grandi sono avvenuti nei tempi passati, però ancora si sottovalutano questi aspetti? Si tende a minimizzare. Il caso che più mi ha impressionato a livello di letteratura scientifica è il caso di Pietro Maso. Pietro Maso Montecchia di Crosara, 1998, in provincia di Verona, uccise i genitori per raggiungere l'eredità e come obiettivo finale voleva ottenere l'eredità in maniera assoluta. Pietro Maso, oltre ad avere un escursus di disagi, di condotte sintomo pericolose che andavano dall'uso di stupefacenti fino ad arrivare a frequentare assiduamente prostitute, a una vita sregolata, all'abbandono precoce degli studi, perché Pietro Maso abbandonò gli studi in maniera precoce, Pietro Maso cercò di uccidere la famiglia, fece un tentativo in cui nel progetto omicidiario non c'erano solo i genitori, ma c'erano anche le sorelle e i fidanzati, i compagni delle sorelle, in cui questo gesto che lui fece venne minimizzato a tal punto da farlo passare per una bravata. Lui rafforzò l'idea di uno scherzo, rafforzò l'idea di una burla in questo senso e gli stessi familiari minimizzano il gesto, ma questo è un gesto estremo in cui in altri contesti più sottili e più sommersi gli stessi familiari minimizzano i forti segnali di disagio, che non bisogna mai farlo, infatti non solo in questo contesto, ma anche in altri contesti va bene parlare, va bene il buonsenso, va bene chiudersi nella rete familiare e capire se c'è un problema, ma bisogna rivolgersi agli esperti, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, specialisti della mente, che possano aiutare un individuo che vive uno stato di disagio in maniera professionale, perché il buonsenso spesso non basta. Hai portato diversi esempi, ce n'è uno in particolar modo che ha toccato i nostri territori ed è tra l'altro conosciuto come il family murder più grande che ci sia stato dal 1996 ad oggi, che è quella della strage di buon vicino. Anche lì ancora non si parlava neanche di femminicidio, non si parlavano tante questioni, non erano sotto i riflettori come oggi, eppure a ripercorrere da un punto di vista scientifico tanti sono gli elementi che potrebbero recuperare molti dei nostri concetti che abbiamo affrontato in queste puntate. Si parla della strage più grande che non è successa solo in Calabria, poco affrontata dai media e dalla letteratura scientifica per via di tempi in cui ancora gli approfondimenti, come ben dicevi, su determinati temi, anche il famoso processo mediatico era ancora agli albori. Probabilmente c'era anche una sorta di riservatezza da parte della famiglia, senza ombra di dubbio, ma è stato un caso veramente molto grave in cui le vittime sono state tantissime, in cui nel nucleo degli affetti di questa famiglia a compiere questa strage è stato un componente indiretto della famiglia stessa perché era il marito della persona a cui è stata sterminata tutta la famiglia. 6 persone, quindi erano marito, moglie, poi i cognati, i suoceri e una bambina di 10 anni, che è stata la parte più dura e più cruda anche di questa questione. Da questo delitto si comprende, questa terribile strage si comprende quando non vanno sottovalutati i segnali d'allarme, soprattutto di soggetti che per lavoro possiedono un'arma. Quindi non stiamo qui a sottolineare che non c'è una congruenza tra questo genere di violenza e forze dell'ordine, questo vorrei che fosse sottolineato. Però tutte le persone che possiedono un'arma per lavoro sono sottoposti a stress, bisogna che facciano non uno screening, una consulenza, una tandem, ma bisogna che vengano sottoposti ad un percorso per se stessi e per i familiari, perché purtroppo lo stress, purtroppo dei disturbi associati, purtroppo anche delle questioni relazionali che non vanno come vogliamo, generano determinate stragi. E un po' nel caso che hai citato, che tu hai avuto modo di vedere molto da vicino, è successo semplicemente e sinteticamente questo. Quindi Sergio, lo dicevi tu, ci sono comunque realtà e contesti che bisogna attenzionarli molto di più, appunto come in questo caso un elemento che possiede un'arma, ma come all'interno delle case, l'abbiamo visto nella strage di Rende, con possessori di armi, devono essere, ripeto, attenzionati maggiormente, ma soprattutto non bisogna mai dimenticare quei campanelli di allarme che quotidianamente, giornalmente, anche tuo marito o i tuoi figli in qualche modo lanciano, anche semplicemente chiudendosi, perché c'è una frase che ricorre sempre, ma quando succedono queste cose, non ce l'aspettavamo, era un bravo ragazzo. Io posso raccontare un po' di esperienze dirette che va da omicidi a stragi e casi più o meno analoghe, in cui i familiari stessi, anche per senso di colpa, sono un po' velati nel riferire, inconsciamente velati, bloccati, nel riferire la personalità e gli aspetti comportamentali dei propri familiari, che non è una cosa facile, perché poi subentrano i sensi di colpi, il fallimento, ma posso dire, alla luce del mio lavoro e anche alla luce della letteratura scientifica, che ci sono stati sempre dei segnali maggiori e minori, perché non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ma bisogna analizzare in maniera metodologica, in maniera soggettiva, bisogna prendere caso per caso, però molte cose che noi trascuriamo, che diamo per normali, sono dei campanelli d'allarme fortissimi, come la gelosia ossessiva, come le sindrome persecutorie, come non accettare una persona e reagire in maniera violenta con una moglie, una compagna che si vuole separare da noi, la chiusura all'interno dei figli, la chiusura degli adolescenti che non escono, che si chiudono nel loro mondo, che attuano condotte strane, che fanno uso di stupefacenti, in cui molti genitori pensano che farsi una canna è una cosa normale, assolutamente no, non esistono droghe pesanti e droghe leggere, esistono stupefacenti distruttivi che chi è a breve, chi è a lungo termine creano i medesimi danni, questi sono forti segnali, quel nostro obiettivo è intervenire prima del disagio che diventi danno, è una ragazzina che si chiude giornate interi in camera e che si rifiuta di entrare, di relazionarsi con il nucleo familiare è un fattore molto pregnante che in questi casi emerge sempre, che è l'isolamento e questa famiglia che andiamo ad isolare oggi, domani, l'andremo a distruggere. E quindi un altro elemento è venuto anche fuori, cioè il silenzio. Il silenzio a volte è più assordante di qualsiasi altro rumore. Prevenzione e campanelli d'allarme, non facciamo altro che ripeterlo, serve anche per prevenire appunto la distruzione di famiglie o le stragi come ve le abbiamo raccontate. Grazie Sergio. Grazie a voi. Grazie a voi.